Buon lunedì 22 febbraio. Ieri il seminario ha offerto una grande prova di sapienza da parte delle persone che hanno contribuito attivamente alla sua realizzazione. È stato un lavoro comunitario come devono essere i seminari nella dimensione dell'ecologia sociale antropospirituale. I relatori, chi ha coordinato, coloro che hanno introdotto un po' la discussione, quanti hanno partecipato attivamente ponendo problemi, osservazioni, partendo dalla propria esperienza e dalla propria conoscenza. Ognuno ha sicuramente dato il meglio di se stesso e lo ha fatto generosamente in un clima di festa autentica. Ecco questo è il segreto della perseverante ricerca della verità e della conoscenza a partire dalle nostre sofferenze esistenziali, dai nostri comportamenti dissipativi. Partiamo da lì, partiamo dalla nostra alterazione del tono dell'umore, anche dalle condizioni più chiuse al mondo, quelle dentro le quali noi ci rifugiamo, facendo esprimere in massima intensità la dimensione della follia. Ebbene tutto questo ci riporta a ciò che stiamo vivendo e che era sotteso anche alla dimensione della festa, come si può essere in festa in questi tempi di tristezza, di paura, di angoscia. Tutti i sentimenti che non sono soltanto attribuibili alla condizione dell'epidemia. Queste paure, angosce, incertezze, insicurezze, sono direttamente proporzionali alla pretesa umana, una sorta di sfida, che a un certo punto pensa di sapertutto di dominare ogni cosa e che rende le coscienze incapaci di sentirsi autenticamente libere. Per questa ragione Udoli indicò la via dell'educazione costante, perseverante, la necessità di rendere le persone a partire dalla propria sofferenza, direttamente espressa o indirettamente attraverso una relazione affettiva, diventare soggetti attivi. E vedete, basta lasciare le persone e credere nelle persone, lasciare che le persone siano libere e possano riprendere confidenza con se stessi e sono capaci di grandi scoperte, che arricchiscono tutti. Questo è tempo di conversione, non è tempo di arretramento, conversione in senso antropologico. È l'essenza stessa di ogni cura dell'anima, è un cambiare rotta, non consegnarsi a qualche tecnica effimera che modifichi il nostro funzionamento meccanico per renderci nuovamente conformi e conservatori alla cultura esistente. No, la conversione è un cambiamento radicale della cultura esistente. E quindi per poter far festa in questo tempo triste, intriso di una ansia che inevitabilmente finisce per alimentare l'aggressività con se stessi, con il più vicino prossimo e anche con coloro i quali sono molto lontani da noi. Non dimentichiamoci che prima della paura di questa epidemia siamo stati costantemente sollecitati a temere lo straniero. E prima ancora del temere lo straniero siamo stati allertati per una crisi economica che è intrinseca al modello di sviluppo che noi stessi abbiamo contribuito a creare per la nostra indisponibilità a ribellarci. Perché sapete anche chi ha subito le conseguenze dell'economia di finanza alla fine ha coltivato dentro di sé il sogno di far soldi con i soldi, di arricchirsi rapidamente e in modo corrispettivo quasi una forma di riflesso nello specchio. Ha visto in quella modalità rapida di arricchimento la possibilità di fare altrettanto con la relazione affettiva. Abbiamo banalizzato per esempio la dimensione della sessualità, dell'incontro con i corpi, ci siamo sentiti poter padroneggiare quell'intricato questo luogo di corpo, sensazioni, emozioni e sentimenti che è preludio alla dimensione del piacere sessuale. No, noi siamo diventati, interessante, disinibiti, liberati dai tabù ancestrali, per carità, nulla di male in tutto questo, ma se quella liberazione coincide con la banalizzazione non è più una liberazione, è aprire la strada a una dimensione della vita che naufraga nell'intossicazione e nella depressione, che sono i due poli entro le quali si gioca l'intero stato mentale dell'umanità e la sua sofferenza. La psichiatria dovrebbe abbandonare la strada facile, della semplice classificazione e della individuazione dentro al singolo soggetto di meccanismi rotti da aggiustare e rimediare, con soluzioni semplificate, non semplici, semplificate, riduttive, per percorrere invece un'altra strada. Questa è l'indicazione, perché la conversione non è qualcosa che io chiedo semplicemente a me stesso o ai devianti o a coloro i quali sono annichiliti dall'ansia e dalla depressione, no, la conversione è chiesta a ciascuno, anche ai curanti, che devono farsi soggetti che ascoltano, che interiorizzano in se stessi le contraddizioni che osservano. Allora si creano le precondizioni per una festa che si avvale di una ritualizzazione che non è mai banale e apre, apre autenticamente a una liberazione della consapevolezza, della complessità di una relazione intima tra i corpi che dischiude una prospettiva di esperienza assolutamente feconda, non in senso meramente riproduttivo, ma in senso esistenziale. Questo apre alla festa come luogo della non produttività, come luogo della sospensione, non fine a se stessa, luogo dell'ozio, finalizzato alla dimensione dell'amore, dell'amore per se stessi, per gli altri, per la natura, che non è possibile se creiamo invece delle condizioni di barrieramento attraverso l'uso di sostanze, attraverso l'arroccamento in stati mentali che diventano meccanismi contemporaneamente di difesa e di aggressività, che creano condizioni antitetiche alla festa. L'antitesi alla festa è la guerra, è la guerra di tutti contro tutti. Ma siccome questa dimensione del male è istintivamente presente in noi, per poterla dominare, per poterla mettere in secondo piano, e radicare non possiamo farlo. Noi dovremo sempre convivere con questa realtà, per cui qualsiasi processo di crescita e maturazione e di conversione antropologica non è un percorso a termine, è qualcosa che ci accompagna nel corso di tutta l'esistenza. Allora sì, la vita diventa autenticamente bella, degna di essere vissuta, intrisa di una dimensione etica che in ogni atto tiene conto delle esigenze dell'altro, nella reciprocità. Ieri mi è capitato pomeriggio di ascoltare una riflessione sulla cura da parte della religione ebraica, nella serie di eventi che vanno sotto il nome di Interreligious, serie di eventi nel mese di marzo. Ed è stata sottolineata l'importanza del rapporto io-tu, contrapposto al rapporto io-esso. Io-tu significa la reciprocità, la reciprocità con Dio, la reciprocità con l'altro. Io-esso significa invece una relazione che non prevede reciprocità, perché ciò che noi chiamiamo esso è metafora dell'oggetto. Se io rapporto con un oggetto e non con qualcosa che semplicemente mi rispecchia e ci rispecchiamo reciprocamente o un oggetto, non c'è rispecchiamento. C'è solo luogo di manipolazione, di correzione degli altri, di moralismo e di assenza totale di etica, di presunzione di potere anche. Io ti voglio correggere, senza correggere mai neppure per una piccola parte me stesso. E così non è possibile la festa, la festa non è un luogo dove incontriamo gli altri come oggetti. La festa è il luogo della reciprocità e della ricerca dell'armonia. È la festa del piacere che non elude in nessun modo la dimensione della sofferenza. Non è un luogo astratto la festa. Il luogo astratto, mal interpretato come festa, è il luogo dell'intossicazione. e che è molto simile anche a una sofferenza che insiste sulla indisponibilità alla conversione. perché blindati in quella sofferenza neghiamo la centralità del rapporto con gli altri confortati da un sapere professionale, presuntivamente scientifico ma poco di scienza, che pensa che gli altri possono essere plasmabili come oggetti. Per questo il club è il luogo di relazione dentro il quale ciascuno è membro di quella comunità. E in quanto membro di quella comunità mette a disposizione le sue conoscenze. Non abdica alla sua dimensione esistenziale, anche professionale, semplicemente la condivide. E dentro a quella condivisione ognuno è chiamato a dare il meglio di sé ed è quello che è accaduto ieri al seminario. Ognuno ha dato autenticamente il meglio di sé e lo ha fatto con sapienza, con intelletto, con disponibilità alla ricerca, tanto che ha aperto sicuramente nuove domande da sviluppare nei seminari successivi. Il seminario, la scuola non sono dei soprammobili che abbelliscono il percorso del club. Sono coessenziali con il percorso del club. Se non si apre questa prospettiva di stimolazione costante verso la conversione antropologica e la si ritualizza, perseverando nella ritualità, è molto difficile che il club possa essere quello che deve essere, luogo di crescita e maturazione per cambiare la cultura esistente e trovare uno spazio di creatività in sé stessi e nelle relazioni. Se il club non è questo diventa un piccolo manicomio nel quale ci si rifugia una volta alla settimana senza cambiare nulla. Ma questo non sarebbe proprio un club se fa questo. ecco questo è il punto fondamentale sul quale credo che nei prossimi mesi, nei prossimi anni dovremmo trovare modi sempre più perseveranti in un percorso di cambiamento costante. Cambiamento sì, forse è una parola sbagliata, nel senso non c'è nulla da cambiare, c'è da evolvere, ripercorrendo la centralità della vita e lo possiamo fare solo disponendoci nella dimensione dell'ascolto e della ricerca della armonia. Il grido che è stato evocato ieri che crea una incrinatura nella fissità non è altro che la potenza musicale della parola che agisce in senso trasformativo verso quella conversione che è la caratteristica fondativa del processo evolutivo della vita in questo pianeta. Buona giornata a tutti.